60 milioni di turisti nel Veneto nell'ultimo anno, tanto vale il settore nella nostra regione e il numero è destinato ad aumentare nonostante la crisi, perché la regione Veneto, al primo posto per presenze turistiche in Italia, ha puntato sui turisti stranieri per compensare il triste calo della domanda interna. Noi abbiamo puntato da sempre verso i mercati esteri, lo ha fatto l'attuale presidente Luca Zaia quando era assessore, l'ha fatto poi Franco Manzato e lo sto continuando a fare io in questi tre anni in cui io mi occupo di turismo. Siamo presenti in tutte le piazze internazionali, non solo europee, io sono reduce proprio ieri da una missione in Svezia dove abbiamo incontrato una sessantina di buyer, sessantina di tour operator che sono fortemente interessati al nostro mercato, lo dimostra il fatto che la Svezia in questi ultimi sei mesi è cresciuta dell'8%, quindi per noi il turismo straniero è il turismo di riferimento. Ma non basta, ci vogliono nuove strategie per catturare più turisti e il settore potrebbe diventare in assoluto nel paese la più grande fonte di reddito. Per questo stamane al Mulino Stucchi si sono riuniti gli operatori turistici per fare il punto della situazione durante la borsa del Turismo Veneto for You e decidere le nuove strategie come l'offerta di più attrazioni. Secondo i guru del turismo veneto la nuova strada è il potenziamento dei servizi. Russi e cinesi sono i due segmenti del mercato che stanno esplodendo e che amano alternare le visite culturali e il divertimento con lo shopping. Gli autolet, in particolare quello di 90, ha registrato un aumento nell'ultimo anno di clienti cinesi del 126% e del 40% di russi. I tematismi abbiamo allargato rispetto al sistema precedente che parlava di sistemi turistici locali. Quando noi ci muoviamo per promuovere il Veneto cerchiamo di far capire che oltre a Venezia e che nel nostro fiorello chiello c'è tanto altro. Ci sono dei tematismi, ci sono dei prodotti. Quando parlo di tema parlo di aree geograficamente ben individuabili come il mare, la montagna, il lago e le terme. Quando parlo di prodotti parlo di offerte trasversali che possono aumentare la capacità di attrazione del territorio come i percorsi cicloturistici, il golf, i percorsi enogastronomici. Tutto quel valore aggiunto che il nostro territorio può offrire. Grazie. Grazie. Grazie.